Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini è il primo cittadino più amato in regione secondo la Governance Poll 2015 che regista il gradimento degli amministratori stilata dall'istituto demoscopico IPR Marketing per il sole 24 ore. Il primo cittadino pescarese si piazza nella classifica generale dei sindaci di città capoluogo al 17esimo posto. Alessandrini tuttavia che ha totalizzato un 59 per cento di gradimento ha perso il 7,34 per cento del consenso ottenuto lo scorso anno. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio risultato al 56esimo posto con un indice di gradimento del 53 per cento perdendo l'8 e 36 rispetto al risultato della prima elezione nel 2010 e due punti percentuali rispetto al risultato della rielezione per il secondo mandato nel 2014. La classifica prosegue con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che si attesta al 63esimo posto con un gradimento del 51,5 per cento ed un calo del 7,7 rispetto al 2012. Ultimo sindaco in quanto a consensi è il primo cittadino di termo Maurizio Brucchi che si posiziona al 95esimo posto in coda alla classifica italiana con un 46 per cento di gradimento in calo del 5,5 rispetto al 2014. Il risultato dei quattro sindaci è in controtendenza con il dato nazionale che vede i primi cittadini italiani nel complesso guadagnare oltre un punto di consenso per gli amministratori dei quattro capoluoghi gradimento invece in calo significativo.